Oh no! Non sapevo che si moriva! Benvenuti nel mondo di Mario! E non fate caso a questo! Cat, cosa hai combinato su questo gioco? Prendi le armi! Prendi! Prendi! Cosa? Ma sono i medikit! Questi sono i medikit dei cubi. C'è una moto! Perché c'è una moto? Spara, spara! Cat, cosa sono quei cosi? Ma! Attenta! Cat non ha la potente! Ma... ma... è mo... Aspetta, facciamo un edit della sua moto! Ma... Cat, questa è la prima volta che gioco a questo gioco e già non mi piace! Benvenuto nelle mode di Left 4 Dead! Ok! Siamo nella zona dei tubi! C'è quasi con se vanno i tubi! Mi sono cacato sotto! Cos'è sto l'umore? C'è Bowser! Spara Bowser! Perché non è nel suo castello! Cosa? No, no, no! Non è nel suo castello! Non usare il cubo! Non è nel suo castello! Cat, 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 cat! No, 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 no! No, Bowser! Bowser! Muori! Che succede? Perché non è nel suo castello? Ma c'è un'altra moto! Oh! Oh! La patente è libretto! La patente è libretto, signore! È morto! Sì! Andiamo avanti! Mi devo cucaraccia! Sì! Curare! Nananana! 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 Oh! C'è una bomba all'eutrino! In che senso? Cos'è sta roba? È davvero... Aia! Cosa? Perchè? Perchè c'è un Toad volante? Perchè c'è un Toad volante? In che senso? Ma? C'è un Toad volante! Ehm... Ehm... Comunque vieni! Ehm... Cos'è successo qui giù? Non si faccia... Oh! Mi sta curando Peach! No! Toad! Allora che... Oh! No, 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 no! No, Peach! Ok! L'abbiamo salvata! Sì! Queste sono dei rumori! Oh! Mi sono caccato sotto! Mi sono caccato sotto! No! Ma era mia... Era la principessa che io dovevo salvare, come Luigi! Oh no! Eh vabbè! Ci c'è delle bomba neutrino quassù! La porti qui! La bomba... Sì! Abbiamo! Ecco Cat! Prendi! Cat 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 è importante! Si! Importantissimo, importantissimo! Importantissimo, importantissimo! Importantissimo, importantissimo! Bomba neutrino! C'è un po' di gente qua sotto Ci sono armi qui Altri fucili, altre armi C'è scritto jump Che significa salta, saltiamo Sei caduto in slow motion È la cosa più figa che abbia mai visto È una roba da cinema Aspetta, aspetta, anch'io Oh Dio, ma stanno noi così Avanziamo Ma c'è la gravità lunare È bellissimo Non c'è più Ah, non c'è più, sad Ciao, brava ragazza Pistolone No Porta Pistolone Pistolone Ma c'è in te Un'ascia Non ho paura di giarla Nino, nino, nino No, che significa questo Preparati a combattere l'orda Perché c'è un goblin Lì dietro si trova l'orda Non ci passeremo mai Quindi evitiamo di passare qui Ma Ma Ok Non so cosa sto facendo Oh Quanto mi sta succedendo? Quanta gente Quanta gente Quanta gente Quanta gente Quanta gente Sì, è un squid Squid No, squid Aveva uno squid No, un boomer Oh, abbiamo vinto Oh Oh Arrivo 360 Ma C'è un pigeon Saperemo le scale Rick Cosa c'è? Cosa succede? Oh 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 Chiudo Oh Oh Let's go Abbiamo finito un livello C'è un altro Spero di no Sera Buongiorno Buon pomeriggio Buon pranzo Sì Oh Un pizio Cosa hai detto? Geronimo Cosa è qui? Oh mio dio Salva mia Non mi riesco a muovere Non mi riesco a muovere Non mi riesco a muovere Spare, spare C'è una goomba che mi sta seguendo No, no, no No, no, no Che help No, 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 no Cosa sta succedendo? Non mi fardo Cat mi hanno vomitato addosso Cat mi hanno vomitato addosso Ma di qua dentro Ho fatto Ma io ho fatto qua una cosa Aspetta Ho fatto inciampare Qua c'è una scatola Oh mio dio Sì, l'ho pre... Prettiri di fuoco Abbiamo bisogno di... Let's go Cat, cat Dimmi Tu senti questo suono? Sì Una che piange? Sì Purtroppo gli ho dato due In matematica Non è molto felice Che... Che... Guarda Aspetta Cat So come... So come risolve L'ho tirato troppo lontano Ah, l'ho tirato troppo lontano Oh, dè Perché mi spari? Oh... Oh, c'è, c'è, c'è C'è un po' No Non sapevo che si moriva C'è un po' Sono morto Bozo Attendo davanti Oh, oh, oh Oh, oh Oh mio dio Attendo Sterminiamo lì Dovete morire tutti Vai sotto Dovrebbe essersi aperto un ponte Penso Non sto sentendo niente Aiuto No No, vabbè, come funziona? No No Rick, no Oh, no 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 Ma Pitch, la c'è Ah, ah, stavano le f Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah C'è, ma se eravamo iniziato nel sky Ti puoi fare una provata Della madose Non sto capendo più niente Pitch Eh Oh, Rick Sono lì Puoi rianimarmi Oh Ah, se no Mi sa sono fuori Vai fuori Oh Aspetto Oh, c'è uno con la moto Qua a sinistra Ma Oh La stanza segreta Sono vivo, sì Andammo, andammo Un gnomo Basta Feria Sopena si è uscito Ti hanno piombato Andoso con una moto C'ho dieci di vita Cat Non so se Capisci la mia situazione Come, come di Non mi fa L'anima Ok, ora sì Ora avrai più vita Guarda Cat È morto Todd No È morto No, è sott'acqua È sommerso No No Ma Sono Stupido Sono morto Arriviamo Aiuto 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 Mi stanno vomitando addosso Cat Aiuto Arriva 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 Mi sta rianimando Il pitch Mi ha piombato addosso Lo zombo No Sono mortissimo Sono mortissimo Sono mortissimo Tranquillo Ci siamo noi Sono cabuta dalle scale Ciao Cat Vinci per me Ah sì Ho vinto Mi è morto la fine Ma la fine Sono morto È buono questa pistola Ric Ecco qui sto ma fa pure il rumore cosa no dietro dietro via 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 ti può buttare giù ti può buttare giù è morto giro giro tondo una domanda quanto è lungo questo percorso non lo so no perché hai fatto il suono di fall guys buona fortuna percorso un mio dio mi darò un fuoco o dobbiamo essere in tempo qua ma tu sei un pazzo ma cosa la farò pure io no 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 no, non hai mai niente cos'era? la mia è lei col pescello col pescello al tempo hai il tempismo di un cricheco è il tempo di uccidere oh siamo qui bello oh mio dio gli hai dato un'arma in faccia penso a questo dobbiamo andare aia perché ho un'arma di doom come provare di combattere l'urda in che senso cosa no in che senso ok attivato oh mio dio questo non promette bene vai 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 dai 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 ce la possiamo fare mannaggia te ma cos'è questo il castello di bowser si mannaggia Board sono morti ciao rick no 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 fermo fermo perfo ho bisogno di una mano f***o c'è la witch c'è la witch ho raggiunto la safe lesgo aspetta mi sto curando non c'ho fab retailer cosa è sto coso dover? Sei sotto come fai ad essere sotto se io sono sopra vorrei dirti c'è la luce Mi ha atturato come si dice Fai schifo no 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 fermo fermo Cosa faccio Cosa faccio dimmi cosa faccio Abbiamo perso Che fine tragica